Eccoci qua amici, ben trovati, siamo in stamperia, oggi ci occupiamo delle ristampe di Made in Italy, produciamo la maglietta con la chitarra, la maglietta che in qualche modo raffigura quella che il maestro indossa durante il concerto. Noi di Max Ben produciamo in Italia questi nuovi prodotti negli stabilimenti di Nouvellara, quindi Made in Italy a tutti gli effetti, tecnologie d'avanguardia per quello che riguarda questa personalizzazione della maglietta di Made in Italy. Luciano Dicabue, ancora una volta, a Zeri, c'è?